È una qualificazione che ci è scappata davvero per poco intanto e da lì si riparte dalle Faroe, da quella partita ai campionati europei ma anche da una squadra che è consapevole di essere la dodicesima squadra in Europa. Sì, devo dire che ci è sfuggita proprio per una sola partita, abbiamo avuto due occasioni, due grandi occasioni una prima con le isole Faroe e la seconda con l'Islanda, non ce l'abbiamo fatta ma daremo il massimo per provare a portarla a casa, la qualificazione qua in casa. Una squadra che dicevamo viene da due dodicesimi posti, quindi si è sempre confermata tra le migliori 16 squadre d'Europa ecco, con che consapevolezza questa Italia arriva a queste qualificazioni? Hai detto bene, due volte siamo arrivati dodicesimi agli europei, quindi sappiamo il nostro potenziale e siamo sicuri che potremo fare delle ottime partite. Tre avversari, Croazia, Montenegro e Israele che abbiamo già battuto o, come nel caso della Croazia, abbiamo già comunque fatto risultato pareggiando agli ultimi europei adesso forse la storia cambia un po' però con un solo posto per quattro squadre che corrono. Sì, come hai detto tu, abbiamo già battuto queste tre squadre, però siamo in quattro, questo girone dove passa solo una squadra e quindi tutte le partite sono da vivere, da dare il massimo e cercare di portarle a casa. Un'Italia che innanzitutto dovrà fare a meno di Thomas Bortoli, al tempo stesso però ci sono i ragazzi più giovani di questa nazionale che sono cresciuti, è passato un altro mezzo anno, un'altra mezza stagione, i ragazzi del campus che stanno giocando la Serie A Gold e poi vengo a te perché ti devo chiedere anche come stai necessariamente perché sappiamo che hai dei problemi fisici alla spalla. Sì, sicuramente l'operazione che ha avuto Thomas è una cosa che è inaspettata e auguro il meglio per lui, però qua siamo una squadra, come hai detto bene tu, abbiamo dei ottimi giocatori che vengono dall'Andera 19 a darci una mano, anzi più che darci una mano perché sono veramente degli ottimi giocatori. Poi mi hai chiesto della mia spalla, io adesso stavo facendo riabilitazione e vedremo di essere in campo per le partite che contano. Ad ogni modo, visto che siamo entrati nella settimana che ci porta alle gare ufficiali di qualificazione, il messaggio del capitano quello vale sempre, al di là dei problemi alla spalla naturalmente speriamo di superarli. Sì, il mio messaggio è che daremo il massimo e cercheremo di vincere.